Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale Fairy ASMR. Io sono Federica e quello che state per vedere è un nuovo video ASMR rilassante. In particolare questa sarà una nuova puntata di 4 chiacchiere a bassa voce con Anna. E oggi per l'occasione ho invitato un ospite molto molto speciale. Ve lo presento, ecco a voi Velia del canale Black Moon ASMR. Ciao a tutti. Ciao Velia, grazie per essere qui con me. Grazie a te. Mi raccomando, prima di iniziare a guardare questo video, indossate le cuffie per ascoltarlo al meglio e se l'idea vi piace mettete un bel like. Adesso iniziamo, faremo con Velia 4 chiacchiere interessanti. Allora Velia, oggi per l'occasione ho preparato un tè al gusto fiore di ciliegia. Quindi questa è la mia tazza come al solito e quella è la tua. Potremmo sorseggiarlo un po' per fare una specie di spill the tea. Speriamo di rilassarvi e anche che questo video sia un po' interessante per voi. Per prima cosa, tu hai un canale ASMR che si chiama appunto Black Moon ASMR. Quando lo hai aperto? Beh, l'ho aperto, non lo so, non mi ricordo. Qualche anno fa immagino. Sì, almeno due anni fa. Ok. E come mai, com'è venuta questa ispirazione per l'SMR? Io avevo piacevolmente fatto questa scoperta qualche mese prima di aprire un canale. E questi video mi hanno aiutato tantissimo. Tant'è che prima di scoprirli guardavo altri video che non erano ASMR. e privilegiovo canali con voci per me su porifere. E poi ho scoperto questo mondo proprio con un video di Federica. Ah, che bello che olore! Era un roleplay di profumi. E fui felicissima, davvero felicissima. E iniziando a vedere questi video capì che mi aiutavano tantissimo non solo ad addormentarmi, ma anche a tenermi compagnia in momenti un po' stressanti della giornata. Bella questa cosa. E quindi poi io ho deciso di iniziare anch'io e con la speranza di magari aiutare qualcuno a mia volta. Quindi così è partita una cosa. Senti, c'è qualche modello a cui ti ispiri? Qualche artista magari? Bene, in realtà all'inizio ho iniziato proprio facendo dei suoni senza neanche farmi vedere perché ero molto molto timida e quindi ho iniziato con fast tapping suoni a caso che rivedendoli sono veramente... cioè non mi piacciono minimamente infatti li ho privatizzati e penso alcuni li eliminerò proprio perché sono fatti malissimo. E poi niente, guardando un po' in giro su YouTube ho cercato di ispirarmi a qualcuno e ho affinato tra virgolette la tecnica man mano capendo cosa piaceva a me quindi mi sono immedesimata appunto perché io per prima sono una frittrice e quindi ho cercato man mano di avere l'attrezzatura giusta quindi acquistando i microfoni prima l'Uzoma H1 che di solito si parte così e poi l'Uzoma H6 Tu sei partita invece con l'audio delle cuffiette del telefono i primi video non avevo proprio nulla cioè l'audio del telefono e basta poi dopo pochissimo tempo l'Uzoma H1 e poi dopo un annetto circa... hai fatto il salto diciamo e senti a proposito dell'ispirazione ti è mai capitato di ricevere qualche commento da parte di qualche iscritto oppure di qualche utente in generale che dicesse hai copiato qualcuno perché è una cosa che a me per esempio capita spessissimo guardando video di altre persone noto che non è una cosa che capita solo a te o a me ma a pochi un quindi la risposta è sì tra l'altro a volte sorrido perché magari un contenuto che ho diciamo fatto io per la prima volta tipo il video dei pensieri negativi qual è quello che è? con i fili ah quello è bellissimo mi ha fatto molto sorridere perché mi sono arrivati tantissimi messaggi anche pesantini in cui venivo anche insultata pesantemente in cui mi veniva detto che ero stata non solo l'avevo copiato da qualcun altro perché poi questo video sono stata molto contenta del fatto che sia piaciuto quindi l'hanno fatto anche altre persone che sono ragazzi e quindi poi vedendo che l'ha fatto qualcun altro sono venti sotto al mio pindice ma tu hai copiato e non hai citato sei scorretta o cose del genere e con altre insulti magari anche e quindi sì mi è capitato e penso appunto è capitato un po' a chiunque senti ma che rapporto hai con gli haters o comunque con queste persone che magari lasciano questi commenti offensivi ti offendi o sai devo dire la verità all'inizio ero molto molto più paziente ah ok ti sono al contrario all'inizio parte così ero molto più paziente perché erano pochissimi adesso mi arrivano commenti davvero che di insulti gratuiti del tipo l'ultimo che mi ha fatto davvero cioè mi sono rimasta un po' sconvolta è una ragazza che mi faceva notare che era un poco intelligente ed era anche di cattivo gusto chiamare stelline i miei iscritti era offensivo per la mia intelligenza e per quella degli altri sono rimasta un po' così motivo perché dice tu mi diceva tu non conosci queste persone quindi non ti puoi porre in maniera così confidenziale ma io credo che sia un modo davvero carino per far sentire le persone che comunque mi sostengono e guardano i miei video coccolati anche e poi io sono appenzionata comunque a molte persone che mi commentano infatti riconosco i miei crime ci sono persone che mi seguono da tantissimo con cui mi sento e con alcuni sono diventata proprio amica quindi senti sei diventata amica anche di qualche tuo iscritto con qualche tuo sostenitore persone che non hanno canali la stessa cosa è avvenuta anche magari con qualche altro collega o qualche altra collega sì diciamo che le mie amiche proprio chi sento mia amica sono Sara e Alessia del canale Sara J ASMR e Alessia ASMR salutiamo sì sono due persone splendide con cui ho legato da subito da subito e poi ovviamente te sono stata felicissima di averti conosciuta e quindi anche con altre persone comunque parlo come anche ultimamente Greta il canale La Greta che saluto che è dolcissima una persona stupenda e quindi è bello anche creare rapporti con secondo me secondo me questo è anche il bello di Youtube c'è l'occasione che ti dà di poter fare qualcosa di più profondo di poter allacciare dei rapporti non so come la bellissima però è bellissimo che sia bello questo che fanno proprio al di là quindi non è che ci vediamo e mettiamo ci vediamo a parlare di Youtube di video e infatti no ottimo e a proposito di questo ti volevo chiedere tu nella vita che cosa fai che cosa ti occupi a parte fare video io mi sono da pochissimo laureata in psicologia latriennale e dopo questa pausa romana mi mi dedicherò allo studio della nuova specializzazione a cui mi sono iscritta che è Neurosciz e poi vedo un po' cosa fare comunque sei sempre nell'ambito della mente quindi ti piace penso sottiluco da quello che dici ti piace esplorare un po' l'animo umano e i segreti del pensiero tantissimo tantissimo questo mi trova molto affine a te e prima di fare video di iniziare a fare video tu mi hai detto comunque di essere stata una fruitrice lo sei stata anche dal punto di vista diciamo di una persona che ricerca nei video una soluzione per qualche disagio per qualche problema oppure per te sono stati sempre una compagnia i video smr è un momento così di rilassamento come hai vissuto prima di iniziare a fare video in rapporto con i video che vedevi ecco allora a volte ho proprio la necessità di guardare cose che mi distraggono del tutto dalle mie ansie le mie paure quindi video molto anche semplici a volte invece ritrovo i video un po' più complessi dove si parla dell'io più profondo dell'esperienza della persona che crea il video e trovo siano utilissimi per spronare la persona o attraverso proprio la stessa l'esperienza di chi appunto ne parla e trovo che possa dare degli spunti dei consigli delle motivazioni insomma per affrontare un determinato argomento sono completamente d'accordo e hai mai avuto la sensazione che qualche tuo iscritto si affidasse a te come non lo so un ancora di salvezza per risolvere qualche problema molto forte molto profondo della sua vita sì mi è capitato che ci sono state persone che mi hanno scritto rivedendo in me magari qualcosa che stava succedendo a loro magari avevo accennato di qualche esperienza mia passata e quindi mi hanno scritto ho iniziato a parlare e ad alcuni il rapporto appunto si è sviluppato anche dopo questa questa evidenza diciamo poi e quindi siamo anche conosciuti eccetera quindi qualcuno ha visto in me magari qualcosa che poteva servire loro per affrontare una particolare cosa che avevo accennato anche nel video avevano capitato che magari avevo vissuto qualcosa di simile e quindi ha cercato diciamo aiuto dei consigli avevo chiesto consigli e poi da lì abbiamo iniziato anche a parlare di avere un rapporto secondo te c'è mai stato qualcuno che ha superato un certo limite oppure hai sempre comunque tenuto una barriera in qualche modo tra la tua vita privata e questa esposizione che hai nel virtuale allora diciamo che inizialmente ero molto molto disponibile e anche troppo nel senso che continuo a rispondere sempre 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 a tutti però mi rendo come fai lo so però mi dispiace proprio lasciare qualcuno insomma senza risposta e quindi anche su Instagram su Facebook per email ora è un po' più difficile ovviamente rispondo con più ritardo perché man mano che il canale cresce comunque secondo me diventa veramente complicato esatto però qualcuno è stato un po' troppo invadente quindi adesso sono un po' più restia ad aprirmi o a dare il mio numero di telefono ecco chiarissimo sì 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 e senti un'altra domanda non so se ti sia mai capitato di vedere qualche servizio penso di sì perché ne abbiamo parlato che magari hanno dato alla televisione sull'SMR a proposito di questo che idea ti sei fatta dell'immagine che i media tradizionali vogliono veicolare dell'SMR che cosa pensi? sicuramente penso che loro abbiano ben capito cosa sia l'SMR ma conviene più far passare un altro tipo di messaggio perché il sesso vende molto di più e quindi credo proprio che si voglia dare tutt'altro tipo di direzione ma credo che chi vuole davvero approfondire non si fermi lì e chi è interessato approfondisce l'opinione di chi nonostante veda che ci sia altro anzi è tutt'altro e non bisogna nascondere il fatto che su YouTube ci sono canali o persone che perché esistono di persone che comunque cercano dando un'altra direzione all'SMR magari di avere più visualizzazioni più scritti o semplicemente loro vanno a fare così diciamo che lo spingono verso la dimensione erotica sì esatto però io non voglio io non mi sento neanche di criticarli così tanto forse sono una voce fuori dal coro però io credo che ognuno faccia quel che cavolo vuole cosa gli pare della propria vita e loro stanno lì ma io so che quello che faccio io come quello che fai tu è sicuramente diverso è tutt'altro è tutt'altro quindi se qualcuno è interessato a scoprire che cosa facciamo basta guardare sui nostri canali e vedere che è tutt'altra cosa l'opinione di chi non ci arriva a me non interessa sinceramente sì se è una voce fuori dal coro perché invece molte persone a me non dà fastidio pensano che sia nocivo per chi fa un altro tipo di ASMR avere questa immagine però a me non interessa perché quello perché quello che fanno loro non è quello che faccio io sono due cose ben distinte quindi non mi interessa capisco benissimo e senti regia chiudiamo questa breve ma speriamo bella intervista per chi ci segue per me è stato veramente un piacere intervistarti con una domanda che faccio a tutti coloro che si siedono su questo divano e cioè c'è qualcosa che ancora non hai mai fatto e che puoi assolutamente fare nella tua vita sai che proprio puoi farla in realtà vorrei vivere con molte meno paure che sia quella di prendere l'aereo o affrontare qualcosa che magari per cui io non mi reputo abbastanza ecco diciamo così e adesso non mi sento ancora ovviamente pienamente realizzata per un giorno vorrei guardarmi indietro non avendo nessun nessun rimorso nessun rivenzamento dire questa cosa l'ho sbagliata ma avere sempre consapevolezza di me stessa e di essere felice anche degli sbagli perché mi hanno portato si spera a un risultato ottimale bellissimo ti auguro che questo sia un obiettivo che che ci entrerai ma sicuramente ci arriverai perché sei una ragazza intelligente grazie e grazie per essere stata con me grazie a voi per averci seguito fin qui scrivete giù nei commenti se avete qualche altra domanda da porre a Belia qualche curiosità sul suo conto e lei vi risponderà e niente se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella scegliendo tutte le notifiche perché youtube è un po' cattiva all'ultimo soprattutto ultimamente e basta noi ci vediamo se vi è al prossimo video ciao ciao adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte a te ori oi ori a te oi oi o o i o Grazie a tutti.